Benvenuti, vi ringrazio per la presenza, questo è un momento dedicato al tema della presenza della partecipazione femminile nel volontariato di protezione civile, come dicevamo stamattina è un ambiente prettamente maschile, lo vediamo anche un po' dai dati, per cui nel registro volontari abbiamo più volontari maschi che volontari donne e quindi può essere questa un'occasione per riflettere in affinità col tema dell'evento, ecco perché abbiamo aderito favorevolmente a questo progetto, può essere quindi un'occasione per riflettere su alcune componenti, ovvero sicuramente vedremo anche da un video che abbiamo preparato, il volontariato di protezione civile è anche un volontariato in cui conta la forza, quindi donne che a volte nelle emergenze guidano scavatrici, spalano e spegono gli incendi boschili, c'è una caratteristica di forza fisica che potrebbe essere predominante, però non solo, quindi forza morale e tutta una serie di componenti che invece la donna può in maniera preziosa contribuire a donare in particolare nel volontariato e quindi dicevamo un ruolo di cura che viene scelto e non invece imposto dalla società, quindi un ruolo di cura che però si estende al di là della rete familiare e che invece abbraccia praticamente la comunità. Allora abbiamo preparato con il dottor Ricciardiello la collaborazione della nostra collega Angelina Bencivenga che è un nuovo acquisto anche del settore, si occupa anche lei di volontariato con me, abbiamo preparato questo video che voleva essere un po' celebrativo, non tanto all'inizio ma verso la fine, di quello che noi abbiamo appreso un po' dagli uffici, dell'importanza del ruolo del volontariato femminile. Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Nobile! Grazie a tutti! 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 e a tutti! Grazie a tutti! e a tutti! Grazie 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 a tutti! e a tutti! Grazie 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 a tutti! Benissimo! Grazie a tutti! 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 Bene! Grazie a tutti! 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 ! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!